Musica Buongiorno, buongiorno, buon risvegliati, benvenuti a Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV 7.30 Siamo in diretta qui per mostrarvi le notizie principali che compaiono nei giornali di questa mattina che troverete naturalmente in edicola, Corriere Adriatico e il resto del Carlino sono pronti guardiamo però prima il salto del giorno e poi le previsioni del tempo oggi mercoledì 1 marzo, la Chiesa osserva la Beata Giovanna Maria Bonomo il sole è sorto alle 6.44 e Tamonterà alle 17.57 17.57 quindi per quanto riguarda l'ultimo raggio di sole ora vediamo le previsioni del tempo, guardiamo quello che sarà l'evoluzione per le prossime 36 ore cielo irregolare nuvoloso con rapida diminuzione della nuvolosità già dalla prima mattinata e prevalenza di sereno per il resto della giornata, questo per quanto riguarda oggi le precipitazioni nelle prime ore della giornata, rovesce temporali, sparsi in rapido transito qualcuno si accorgerà adesso che esce di casa che la macchina è un po' bagnata e quindi insomma qualche gocciolina è scesa giù nella nottata minime in lieve aumento e massime stazionarie vediamo invece per domani le previsioni, ecco vediamo che compare la nuvolosità cielo parzialmente o poco nuvoloso, un po' su tutta la regione è uguale precipitazioni non ce ne sono, diminuzione dei valori minimi stazionari o in lieve aumento invece le temperature massime i venti sono da sud occidentali di brezza tesa, questo è il mare poco mosso veniamo venerdì, ci avviamo verso il fine settimana sulla costa pieno sole qualche residua nuvolosità invece sui rilievi, poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso nessuna precipitazione, temperature in lieve aumento e venti in regime di brezza in intensità massima di brezza tesa nelle ore però centrali quindi il vento rafforzerà nelle ore centrali, il mare è poco mosso bene, queste erano le previsioni del tempo insomma quindi regolatevi se avete qualche attività outdoor da fare vediamo le notizie del giorno, tanta politica, un po' di sanità e poca cronaca questo è occhio e croce il menu principale delle portate iniziamo, partiamo dal resto del Carlino andiamo a Pesaro, i giorni di Rossini l'alta formazione dei conservatori non sarà più una cenerentola l'impegno di Valeria Fedeli all'apertura dell'anno accademico e poi i costi della politica sotto l'ente di ingrandimento quelli che riguardano l'amministrazione Ricci 10 assessori possono bastare per insomma così parafrasare la canzone di Lucio Battisti mantenuta la riduzione del 5% sulle indennità previste dalla legge e andiamo su Fano su Fano e parliamo dell'ex Enam al Comune non importa l'ex Enam in fumo progetti da 22 milioni di euro vedete nella foto qui ecco, è correttato qui il procacciatore d'affari Massimiliano Baldarelli che appunto dichiara questo l'immobilialista svela erano interessati i gruppi di De Benedetti e Agnelli ma non se ne è fatto nulla volta faccia ci volevano fare l'RSA ma l'amministrazione ad un tratto si è ritirata indietro questa la sua denuncia e poi ecco incontro con il ministro Fedeli che cosa ha portato? ha portato che il Cecchi anche il sì ci dà ragione è sempre appunto più vicino il Cecchi è sempre più vicino a Fano l'avvio del bienio dell'agrario atteso da anni sembra essere un traguardo ormai lì a portata di mano il comune ha già inviato un'istanza di annullamento al direttore regionale vedete i protagonisti di questo incontro Minardi, Mascherin, Marcheggiani e il ministro Fedeli nella foto del resto del Carlino Colle Marathon una delle manifestazioni più amate da tutte le persone che naturalmente amano la podistica è ormai diventato una manifestazione di respiro internazionale cresce sempre di più anno per anno e adesso insomma fa uno sbarco in America e chi ci va? ci va appunto una delegazione e anche il primo cittadino di Fano dopo che loro sono venuti qui anno scorso continuo questo gemellaggio diciamo sul podistico e quindi insomma saranno protagonisti una delegazione della Core Marathon alla Maratona di Chattanuga e anche il nostro primo cittadino si cimenterà in quella breve però insomma per questo consolidare il gemellaggio ancora dal resto del Carlino archiviamo il resto del Carlino parliamo del Corriere Adriatico andiamo a vedere cosa succede in provincia sforbiciate su scuola strade e strade la provincia denuncia Roma Pesaro contro il governo la provincia di Pesaro contro il governo quindi riguarda tutti anche Fano e l'entroterra primo caso in Italia il presidente Tagliudini dice non ce la facciamo più e quindi insomma passiamo alle vie di fatto parliamo anche di sanità l'establishment del PD ha vinto ma i cittadini sono con noi il patto di piagge non si scioglie e rilancia la battaglia parliamo appunto di sanità sanità dell'entroterra vedete qui alcuni dei protagonisti Baldelli, Bonci poi naturalmente Cionna di Piagge eccoli qua difendiamo siamo Davide come siamo come Davide contro Golia difendiamo la salute del nostro territorio quindi i 13 sindaci non mollano tengono duro e portano avanti la loro la loro battaglia per la sanità all'entroterra e dicevo tanta sanità nelle pagine dei giornali questa mattina si parla appunto anche di Urbino la rete di emergenza urgenza potenziata grazie alla riforma Area Vasta 1 il direttore Fiorenzuolo dice a Cagli San Socorvara Forso Ambrone il pronto soccorso non esiste da 20 anni però insomma Urbino unico riferimento per l'entroterra questo è l'articolo dell'Ocurria Adriatico e poi ancora sanità sempre nelle marche in primo piano però insomma una pagina positiva ossigeno per una sanità in coma sono in arrivo ben 3.186 assunzioni sparse nel territorio qui come vedete come sempre fa il Corriere Adriatico ma anche il resto del Carlino c'è una disamina attraverso una grafica per vedere bene tutti i numeri la cifra anche le stabilizzazioni e il rinnovo dei contratti e 486 sono in attesa del posto 486 persone unità bene andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico si parla di edilizia di edilizia pubblica Santa Lucia bar a metà prezzo Movimento 5 Stelle democratici dicono strategia però assente tutti d'accordo con la decisione di Urbino Servizi di attirare interlocutori le offerte dovrebbero essere recapitate entro il 22 marzo per naturalmente base d'asta per la gestione è di 24 mila euro ma per la minoranza servono anche altri incentivi vedete qui una foto della struttura ancora parliamo latte bio Busetto dice stop il paladino dei governatori del no OGM è pronto a chiudere vedete qui Andrea Busetto che insomma sui social tanta solidà e vicinanza però nessuno premia la qualità del lavoro questa la sua denuncia i distributori scassinati ben 53 volte non ce la faccio più esisterò ancora due settimane e i miei volumi sono troppo piccoli perché ci conti e perché i conti tornino in qualche in qualche angolo delle città insomma qualcuno di voi la presenti sono quei distributori di latte anche qui di fronte al seminario Vescovile qui a Fano ce n'è uno si va lì si prende il latte fresco insomma c'è una 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 macchinosa una macchinosa catena di distribuzione per arrivare capillarmente proprio latte fresco munto dalle lunghe però chiaramente tutto questo fa i conti anche con purtroppo il vandalismo e anche i costi i costi che naturalmente devono rientrare quindi vediamo come va a finire Fano per il Corriere Adriatico si parla di bambini i bambini a scuola da soli un progetto da estendere si parla di mobilità green la mobility manager riflette su Poderino percorsi possibili alcuni da naturalmente educare stiamo realizzando itinerari in autonomia anche agendo sui genitori che devono così un po' incentivare sempre che ce ne siano naturalmente le condizioni di sicurezza ad andare i bambini a scuola vedete qui mentre i bambini si avivano a scuola nel quartiere Poderino dove chiaramente c'è questo progetto che si potrà estendere anche ad altre zone della città ieri è stato martedì grasso l'ultimo giorno di carnevale grande festa in piazza chi c'era ha visto naturalmente un grande falò eccolo qui ritratto nelle foto di Pucci che immortala il momento insomma di massimo vigore delle fiamme e quindi grande festa in piazza a chiudere questa edizione del del carnevale 2017 qui nelle foto vedete i momenti salienti e qui effettivamente guardate la piazza era ieri pomeriggio quando c'era ancora luce era era molto era molto fitta di gente il rogo in piazza brucia ogni eccesso Gian Marioli dice festa finita peccato il presidente restituisce la fascia tricolore al sindaco dice torniamo seri al massimo questa è la battuta in stile stile Gian Marioli e ancora a Fano però si parla di sviluppo della città sapete che c'è questo incontro il 4 all'ex chiesa di Sant'Arcangelo sabato dalle 9 alle 13 e anche alla Mediateca Montanari un piano strategico per così progettare la Fano del 2030 90 cittadini si sono iscritti all'Open Space Technology di sabato per così mostrare la loro idea di Fano cosa si vorrebbe cosa si desidererebbe per Fano per la prossima visione del futuro della città della fortuna andiamo un po' all'interno vi porto nella pagina che tratta della Val Cesano la rotatoria della paura ma Anas boccia i dossi l'incrocio con l'ex pergolese spaventa pedoni bici e moto sempre a rischio ecco la ritratta qui la rotatoria siamo Marotta siamo a Marotta dove pedoni e ciclisti sempre più preoccupati per via della viabilità intorno alle rotatorie ancora da Senigallia però vi porto a Senigallia perché come ultima pagina vi faccio vedere cosa è accaduto i teppisti tornano al parco grido di rabbia dei genitori il sindaco Mangialardi che vedete qui nella fotina in alto a destra verrà effettuata la manutenzione e faremo anche dei controlli lettere per reclamare l'intervento del comune appello raccolto come avete sentito dal dal sindaco ripulire giardinetti a Montignano dove un gruppetto di ragazzini si è divertito a lasciare i ricordini dei cani trovati in giro le merendine naturalmente tutte sparse in giro e le mamme si sono indignate e si sono rivolte al sindaco naturalmente malcomune mezzo gaudio perché anche noi qui a Fano non è che ci facciamo mancare questi episodi di teppismo di maleducazione e poi carnevale ragazzino ferito dal lancio di una bomboletta siamo a Senigallia appunto un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito in piazza Roma durante il carnevale le bombolette quelle del insomma che lanciano quel coriandolo quel filamento di plastica che si appiccica e fa tanti danni e soprattutto non serve assolutamente a nulla risfoderiamo i tanto amati e belli coriandoli di casa insomma di made in casa va bene ok ne riparliamo l'anno prossimo per il carnevale dell'anno prossimo per intanto grazie per essere stati con noi finisce qui occhio ai giornali naturalmente saremo qui nuovamente domani mattina alle 7.30 puntuali e questa sera occhio alla notizia alle 20.30 per essere aggiornati c'è anche il nostro sito rimanete anche con noi collegati con whatsapp c'è il nostro numero di telefono 338 4968 250 questo è il numero whatsapp dove ci potete mandare segnalazioni considerazioni foto insomma potete interagire con noi bene grazie è tutto per questa mattina arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.